Ciao a tutti amici e bentornati sul canale di Cassa Corporation oggi facciamo un rapido video vlog, tanto che facciamo un giretto e praticamente sarà un vlog di sponsorizzazioni cominciamo dalla prima che è sicuramente la più importante che è il canale di Dan84 e l'U84 allora il canale di Dan84 e l'U84 è il canale di Daniele Maggiano che Daniele sapete che ogni tanto partecipa anche ai miei video innanzitutto, prima di tutto è un amico, perciò massimo rispetto e praticamente Daniele ha deciso di chiudere il suo, chiudere diciamo più che chiudere, mettere in pausa, se vogliamo chiamarlo così il suo vecchio canale appunto Dan84 e l'U84 a favore di Daniele Maggiano Reloaded pertanto chi lo seguiva già passi all'altro canale faccia l'iscrizione, tanto basta semplice clic su iscriviti e il gioco è fatto ho trovato naturalmente tra i miei canali preferiti altra comunicazione di servizio molto importante è nato su Facebook il gruppo che si chiama The Retro Gaming Machine tutto attaccato, T-H-E, The Retro Gaming Machine canale di pagina di Retro Gaming poi è nato il blog su Wordpress e sta nascendo il canale YouTube che a breve, quando operativo, comprerà anch'esso tra i miei canali consigliati naturalmente faccio parte del team il canale, anche la pagina, il sito Wordpress e tutto quanto riguarda il Retro Gaming, perciò console entro ed esclusa la PlayStation 2 perciò tutto quello che è arrivato prima, diciamo fino al Dreamcast trovate persone molto competenti, diciamo una squadra di una decina di persone persone molto competenti, molto in gamba ne sanno veramente un totale persone affidabili e disponibili poi una volta iscritti, se volete, sulle pagine Facebook sul relativo canale e seguiteli nel sito Wordpress c'è anche sempre su Facebook una pagina chiamata Retro Bottega dove appunto postiamo sempre materiale retro di videogiochi dove c'è praticamente ognuno posta quello che vuole vendere o scambiare a patto che sia retro, a patto che sia precedente della PlayStation 2 la PlayStation 2 magari facciamo qualche eccezione al momento però tutta roba retro e pertanto se volete fare acquisti passate anche di lì fra gli amici di Retro Gaming Machine saluto anche Jason Nightwing o Starscream79 su YouTube che mi ha già salutato e quindi contaccambio il saluto anche lui fa parte del team di Retro Gaming Machine insieme ad Alessio Ore di Orrore però c'è un altro nome abbastanza grosso più altri ragazzi che sono veramente in gamba pertanto motivo in più per seguire Retro Gaming Machine motivo in più per mettere mi piace sulla pagina in canale di YouTube di Starscream79 poi passiamo ai saluti salutiamo subito Spider Mic e Nodal due ragazzi che fanno video divertentissimi perciò mettete un bel mi piace anche sul loro video sul loro canale scusate, stiamo guidando un po' frastornare e mettete un bel mi piace anche sul loro canale salutiamo sempre Gabriele Napoli19 che sta andando veramente fortissimo abbiamo anche, sono impappinato questa Leale che è un ragazzo molto bravo fa video molto belli anche lui salutiamo anche Vito Mirai Mirail, Mirai, Mirai1 non ho ancora capito com'è il titolo però Vito Mirai è veramente bravo anche lui mettiamo un bel mi piace anche sul suo canale queste sono le sponsorizzazioni sponsorizzazioni rapide se volete essere sponsorizzati particolari requisiti non ce ne sono l'importante è che non mi mandate un messaggio e mi dite mi saluti o mi sponsorizzi perché magari non avete video o magari avete solamente un video tra cui è un preferito insomma almeno abbiate qualche video da farmi vedere e niente, questo è tutto e ci si vede al prossimo video ciao a tutti